Ciao Pino, ti stimo per la tua sincerità, vorrei però che spendessi almeno una parola contro la pena di morte e contro la vivisezione. Un saluto. Ma io in certi casi ho talmente quella rabbia dentro. Io per esempio, quello lì che hanno beccato in Calabria che ha bruciato, hanno fatto morire delle persone in mezzo allo... Io quella persona lì lo butterei io dentro al fuoco, lo brucierei vivo, altro che contro la pena di morte. Mi dispiace, ma io per certa gente non ho pietà, non ho pietà. Cioè, tu non puoi andare a bruciare un bosco facendo morire della gente lì dentro, ma anche tu che vai a bruciare un bosco, che vai a bruciare la natura, anche a te ti brucierei vivo, hai capito? Non sono molto d'accordo su certe cose. Ci vuole una coscienza, ci vuole una coscienza e un'anima nella vita, hai capito? Sennò che cazzo ci vivi a fare? Datti fuoco da solo se devi andare in giro a violentare i bambini, a ammazzare la gente, a dar fuoco alla natura, hai capito? Datti fuoco da solo, la benzina te la regalo io.